e ufficiale. L'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma esclude la presenza della variante sudafricana del Covid-19 in Abruzzo. Si tratterebbe di variante inglese, ma per saperne di più ci colleghiamo in diretta con Fabio Lussoso che si trova a Pescara e che vedo in compagnia del direttore del Dipartimento Sanità della Regione Claudio Damario. Buon pomeriggio Fabio, la linea a te. Sì Gigliola, buongiorno, buon pomeriggio a te e ai nostri telespettatori. Siamo presso la sede dell'assessorato regionale alla sanità con il dottor Claudio Damario, direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo. Iniziamo subito con una notizia positiva che è stata resa ufficiale da pochi minuti. Dottor Damario, allora questa variante sudafricana non c'è? No, in Abruzzo non c'è ancora una variante sudafricana. Ho parlato proprio un minuto fa con l'Istituto Spallanzani che avevamo messo in allarme per avere notizie diciamo appena questa variante sospetta del paziente di Avezzano fosse stata resa disponibile. Loro sono molto ortodossi quindi aspettano di sequenziare tutti diciamo le componenti del virus e ci hanno confermato che si tratta della classica variante inglese che è insomma abbastanza diffusa nella nostra regione, si trova anche nelle piccole comunità, nelle comunità montane, abbiamo varianti inglesi persino nella zona Peligna, nella zona di Rocca Casale, abbiamo varianti a Pacendo, quindi è una variante che è molto presente nella nostra regione. Questo è importante perché noi ci aveva portato già a pensare a misure di circoscrizione selettiva nei quartieri in cui avesse potuto soggiornare o diciamo persone vicino al paziente diciamo ricoverato allo Spallanzani. E quindi diciamo teniamo sempre alta la guardia, diciamo dobbiamo tenere sotto controllo tutte le catene di trasmissione, quindi questo è fondamentale per contenere. Oggi ci sarà la cabina di regia, sappiamo già che il nostro RT si mantiene diciamo su livelli ancora da zona arancione, però non c'è stato un grandissimo miglioramento. Noi dopo due settimane di zona rossa ci saremmo aspettati un pochettino una flessione più importante, stiamo ancora a 1,13 e quindi vuol dire che bisogna ancora contenere, certo bisogna fare analisi molto più puntuali nei comuni affinché i comuni che hanno dei valori che sono sotto diciamo a un R con 0 o inferiore a 1, pur estanti in una zona rossa possono cominciare a riaprire qualche attività, però insomma va valutata attentamente in modo molto selettivo. Dottor Dammario, sul fronte delle strutture sanitarie qual è la pressione e come sta rispondendo la struttura sanitaria regionale? Allora abbiamo una pressione più elevata sull'area di Pescara perché sull'area metropolitana c'è stata una importante socialità nelle ultime settimane precedenti a questa nuova impennata e quindi le due settimane diciamo così di giallo hanno portato a una grande relazione soprattutto in una zona dove ci sono molte strutture ricreative, ci sono strutture diciamo così di tipo recettivo. Questo però ha portato a un'esposizione di casi per cui adesso ci troviamo a dover trasferire pazienti per fortuna in una rete che comunque avevamo programmato sia di terapia intensiva che di subintensiva. È stato dato mandato comunque a tutte le ase di rimodulare le attività per cui laddove aumentino gli ingressi di pazienti diciamo con sintomatologia importante si vanno a ridurre le attività programmate e si conservano quelle cosiddette chirurgiche o quelle salvavita insomma. Quindi questo è l'unico sistema per impedire di dover far ricorso a strutture da campo, strutture diciamo che non sono neanche molto sotto certi aspetti garantisti di un'assistenza diciamo ottimale. Per concludere dottor Damario, l'Abruzzo dunque in zona arancione si parlava di una zona arancione rafforzata cioè bar e ristoranti chiusi con negozi aperti però rimangono non lo ricordiamo le due ordinanze presidenziali che decretano la zona rossa a Chiedi Pescara. Sì ci sono queste ordinanze ma noi lavoreremo in questo weekend per fare un'analisi molto dettagliata per cui poi da lunedì se alcune analisi sono favorevoli alcune comunità possono avere delle diversificazioni di attribuzione di fascio. Bene ringraziamo il dottor Damario dall'assessorato regionale della sanità ringraziamo Diego Martelli per questo collegamento a Telalina in studio.